Buongiorno a tutti, sono qui per presentarvi un personaggio di Zotropolis che ieri ho comprato alla Disney, al Disney Store. Questi sono i personaggi, due personaggi, e sta scritto Godzilla singing doll che significa Godzilla cantante and mood for children under three years che non è per i bambini sotto i tre anni. Canta pure. Questo è come canta, poi questo è sopra la scatola, questo è dietro. Il suo artwork è veramente molto sexy e questo. Adesso ci vediamo dopo il deboxamento. Eccoci qui con la gazzella tartatata, è stato molto difficile perché ha delle parti veramente molto fragili quindi io ho usato la forbici per deboxarla. Allora, incominciamo dalla faccia. Ha queste corna lunghissime con degli intrecci, poi queste orecchie da gazzella e questi capelli piondi a ticci. Poi il trucco è un ombretto rosa sull'occhio e sopra bianco con la virgola qui. Poi ha un collo veramente molto lungo. Poi il suo top è il rosso brillantinato, certamente removibile. Le mani sono sempre da cervo e quest'altra invece ha un microfono in mano perché è una cantante. Ha la coda dietro che sbuca dalla conna. Poi ha dei stivali rossi con il suo piede scoperto e il tacco dietro. La mia ha un po' le gambe storte, però non fa niente, non si possono muovere. Non può fare la spaccata né muoversi così, può alzare solo le gambe così e non so come può farle solo così. Solo questa gamba la può alzare avanti. Ok, questa ragazza è la singola in dollo. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!